Hai studiato in Bari 24 anni fa? Sì, mi ricordo che nel 1990 quando ho giocato l'Italia e ho rappresentato in Modena. Ho giocato in Bari. Cosa pensi di Bari? È bello. È un occhio e siamo in un'altra città. Sei un giocatore e giocatore nel tuo paese. Penso che sono un giocatore come personale di giocare e giocare in molti paesi. Especialmente non è facile per un giocatore femore. Penso che sono molto felice per l'opportunità di lavorare all'internazionale. Come dovresti provare il supporto di di Bari in Palaflorio? Sono molto sicuro che Bari le persone abbiano molto e hanno capito di Bari e credo che Bari è molto popolare in Italia. Credo che ci saranno per noi.